Ancora donne uccise, una al giorno, non lo sappiamo neanche più, sono cifre da brivido. Donne uccise dai propri uomini, uccise da persone che dicevano di amarle. Questo ormai è insopportabile per l'Italia, è il massimo della barbarie. Quindi noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare ancora più di quello che abbiamo già fatto, perché le leggi ci sono tutte, adesso vanno applicate e applicate bene nei territori. Ogni donna deve poter trovare un luogo, un luogo dove andare. Ogni donna deve poter trovare vicino casa sua, o anche dove capita, una casa dove essere accolta per sfuggire all'uomo assassino. Tutte, quasi tutte hanno già denunciato e non siamo riusciti a proteggerle. Quindi questo è l'obiettivo che dobbiamo darci come donne parlamentari, infatti c'è un movimento che si sta creando sempre più stretto. Abbiamo la commissione femminicidio, abbiamo una serie di iniziative. Nel recovery plan è importantissimo che ci sia tanto, tanto investimento sulle donne per renderle ancora più libere. Quindi lavoro, attività che devono essere messe in campo per favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro e per renderle sempre più libere. E poi una rete territoriale di assistenza e di supporto per le situazioni già di degrado, dove purtroppo si assiste a questa, ripeto, barbarie che non è più tollerabile per il nostro Paese.